Mercoledì 23 maggio alle 11.30 nell'auditorium del Centro Culturale Michele Abbate si terrà un incontro in occasione del 26esimo anniversario della strage di Capaci. All'appuntamento parteciperanno il sindaco Giovanni Ruvolo, l'assessore alla creatività e partecipazione Pasquale Tornatore, insieme al direttore artistico del Teatro Margherita di Caltanissetta Moni Ovadia e l'attore e regista Aldo Rapè, nominato direttore per la prossima stagione. Al Centro Culturale verranno letti dei testi nell'ambito dell'anteprima dello studio teatrale condotto da due compagnie con il coordinamento di Michele Albano e la supervisione di Moni Ovadia. La lettura del testo è stata affidata all'attore Rosario Petix. L'amministrazione commemora la figura di Giovanni Falcone e la scorta per ricordare a tutti noi e soprattutto ai giovani che la libertà e la legalità sono valori per i quali molta gente ha sacrificato la vita, afferma il sindaco Giovanni Ruvolo. Serve grande rispetto per questi valori che non devono essere dati mai per scontati e che vanno difesi e conquistati ogni giorno.